In ritardo c'è una richiesta da parte della società del Ponte di tre mesi per rispondere a quelli che sono stati un po' inquesiti e le osservazioni da parte della Commissione. Però è un tema di 40 anni e non sono i tre mesi quelli che mettono in discussione, anzi sono un elemento di garanzia, di trasparenza e di correttezza della procedura. Quindi è un progetto che andrà avanti? Certamente, è un obiettivo del Governo. Grazie.